e lo so lo so me ne dovrei proprio andare perché sono le diciannove e cinquantotto e anche per oggi drive time insomma si deve concludere in qualche modo perché non si può andare avanti per sempre e quindi insomma anche questo venerdì lo concludiamo così mamma mia che bello è stato un piacere stare con voi come tutti i pomeriggi però prima di lasciarvi io voglio ricordarvi questa cosa segnatevela perché il palinsesto di radio centoquattro cambierà dalla prossima settimana che bello si arricchisce perché subentrerà finalmente anche la voce eh del nostro direttore artistico Fabio Calvari e questo vuol dire che insomma alle cinque ci sarà lui col suo programma start che prima conduceva solo a lunedì insieme al mio caro collega Gianluca Firpo e adesso finalmente si è deciso a concedere la sua voce un pochino di più e quindi alle cinque dal martedì mercoledì giovedì venerdì troverete lui poi arriverà a drive time non vi lascio assolutamente sarà quasi in prima serata alle ore diciannove puntuale come un orologio svizzero ci sarò comunque per tenervi compagnia quindi se siete stati bene con me ci possiamo ritrovare la prossima settimana sempre di martedì ma a questo punto dalle diciannove alle ventidue vi auguro una serata